bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi anche oggi domenica non potevano mancare tutte le news sul futuro di fortnite news veramente incredibili perché sapremo molto di più di quello che riguarda il concerto di travis scott ovviamente ho già caricato qualche cosa ieri sul canale ma ci sono tante cose che forse non sapete vedremo anche delle robe relative ai balletti e tanto tanto altro prima volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma quindi ragazzi prima di addentrarci e di iniziare con il video la domandina lo sapete ci tengo tanto a farvela e a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi molto interessante ma secondo te com'è questa ltm mi spiego meglio come vi sembra la knockout ultimamente dopo che livelliamo durante la live su twitch dedico sempre un'oretta un'oretta e mezza a giocare questa ltm che devo dire mi stupisce sempre di più molto più dinamica rispetto alle partite in singolo molto più frenetica e molto più di brain se la si gioca sia in duo che in coppia a me personalmente piace tanto 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 dimmi a te come ti sembra invece e scrivilo qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a parlare e a correggere un'informazione che vi ho dato ieri dedicata al balletto che è uscito ieri come avevamo insomma predetto pensavamo che il ballo che fa parte delle icon series fosse relativo allo streamer crazy qualcosa io non mi ricordo quel ragazzo giapponese o cinese che ha avuto in anteprima con un giorno di anticipo appunto il balletto in realtà non è così vi faccio vedere perché non è così diamogli anche un po di audio perché in realtà il ballo sebbene faccia parte delle icon series fa parte del vincitore del contest di tiktok ed è proprio questo ragazzo ascoltiamolo insieme quindi ragazzi come vedete è ovviamente lampante che non c'entrava niente quel ragazzo streamer ma chi lo sa perché abbiano voluto inserire un ballo come icon series vabbè l'importante era correggere l'informazione adesso lo sapete magari se l'avete preso tanta roba in più e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi per chi non se ne fosse accorto sta cominciando nuovamente l'autobus a tornare del colore originale infatti possiamo vedere in queste due fotografie sotto di me la differenza se notate guardate la parte sotto ritorna piano piano al colore blu e nell'altra foto invece lo notiamo di più sul pallone areostatico sulla mongolfiera che lo tiene questo vuol dire insomma che piano piano ci stiamo avvicinando alla fine della lunghissima collaborazione di fortnite con per dare ovviamente spazio alla nuova collaborazione quella con travis scott il suo concerto e tutto quello che sto per farvi vedere quindi un'altra notizia sempre molto interessante e andiamo avanti a parlare di un altro argomento ragazzi un concept che potrebbe non essere così tanto concept è stata trovata questa immagine in giro ed è riguardante gli henchman in poche parole gli scagnozzi per noi in italiano come sapete c'è tutta la storyline gigante che parla appunto delle varie location che sono diventate o degli spettri o delle ombre decise ovviamente da epic games l'abbiamo già detto non c'entra il numero di giocatori che ha scelto o meno un eroe un agente per farlo diventare comunque epic decide l'unica parte che non è stata ancora chiara è l'agenzia ed infatti nei file di gioco ci sono due immagini molto interessanti qua siamo proprio come vedete la qualità non è ovviamente delle migliori ma abbiamo questa immagine che ci mostra l'agenzia con la bandiera degli spettri e abbiamo invece quest'altra che come avete notato ci mostra la bandiera delle ombre ora noi sappiamo che nella schermata di caricamento di questo pass battaglia si vede mida che ovviamente è l'eroe l'agente dell'agenzia quindi il più importante schierarsi dalla parte delle ombre non è chiaro però se sarà la nostra scelta a determinare che cosa succederà all'agenzia o se magari lo dovremo scegliere poi per schierarci in una fazione durante l'evento perché c'è tutto il discorso del doomsday dell'arma di distruzione di massa delle cose che sono diventate viola intorno all'agenzia che sicuramente ci verrà chiarito con la patch o quello che deve essere l'aggiornamento che arriverà settimana prossima quindi staremo a vedere dovrebbe essere la 12.41 insomma ragazzi ce n'è sempre una pronta per essere scoperta ma arriviamo finalmente a parlare dell'argomento che è sulla bocca di tutti in queste ultime ore se ne parla tantissimo sui forum ci sono tanti video anche sui social e mi riferisco a questo robo qua porca di quella porca di quella porca allora che cos'è ovviamente questa è un'immagine ingrandita al massimo di quel piccolissimo puntino che si vede in cielo ragazzi quel puntino che si vede in cielo non è altro che la navicella di travis scott che annuncia appunto l'evento il secondo concerto virtuale su fortnite vi ricorderete sicuramente per chi lo ha vissuto a parco pacifico quando montarono proprio il palco per marshmallow l'evento fu mastodontico ma qua si parla di qualcosa di veramente inimmaginabile anche perché vorrei rendervi farvi rendere un attimo l'idea che la parte di mappa che verrà presa per fare questo evento è proprio tutta la parte racchiusa d'acqua a sabbie sudate e non so se vi siete resi conto di quanto è ampia questa zona dovrebbe esserci un mega palco fluttuante sull'acqua per questo evento si arriverà dalla passerella del molo e infatti noi sappiamo anche che l'astronave è in realtà presa dal concerto se non ricordo male di febbraio del 6 febbraio di travis scott che si chiamava proprio astro world e quindi astro è anche ovviamente la navicella ed è anche il nome in game di questo puntino rosa però forse non lo sapete mai più attenti o purtroppo non posso farvi sentire la canzone perché è protetta da copyright ma se cercate di stare attenti alcuni sostengono che si comincia già a sentire una base musicale avvicinandosi il più possibile alla punto o semplicemente trovando una posizione in mappa dove non c'è molto casino provate mi viene in mente una cosa a prendere un cecchino ad andare il più possibile nel mare ovviamente dove non potete più andare avanti e mirarlo provate una volta succedeva così con nella season credo 5 o credo 6 miravamo gli oggetti che c'erano in aria nel cielo e si sentiva una musica volevo però comunque farvi vedere anche che la teoria è corretta perché questo è il poster che si vede in giro e come vedete dove c'è la nota musicale è il palco che è la dimensione del palco infatti quello lì è il molo di sabbie sudate e proprio casualmente c'è quell'enorme pianeta che sembra visto così saturno che scende appunto per chi comunque non lo sapesse e non l'avesse ancora vista ragazzi no non ce l'abbiamo l'abbiamo persa vediamo se riesco a farvela vedere da qua abbiamo l'immagine a grandezza naturale e ve la faccio vedere ragazzi il massimo che possiamo ottenere zoomando e guardando cosa c'è nei file di gioco sembra proprio un grande asteroide rosa con un carnevale sopra di cose insomma ci si aspetta davvero tanto da questo evento che ovviamente non sarà l'evento della season 2 questo è solo una collaborazione beh ragazzi io vi ringrazio anche per oggi per aver guardato le news di fortnite mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me sì mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao iscrivetevi ai miei canali iscrivetevi ai miei canali